Musica Sull'Italia è presente un campo di alta pressione con flusso in quota settentrionale, tempo in prevalenza stabile sulla penisola, con cieli terzi e temperature gradevoli, poche variazioni anche nei prossimi giorni. In Toscana, mercoledì 27 maggio, cielo sereno, poco nuvoloso, modesto aumento della nuvolosità nel pomeriggio, venti sulle zone interne deboli o temporaneamente moderati orientali, sulla costa moderati di maestrale nel pomeriggio, mari poco mossi, localmente mossi nelle ore pomeridiane, temperature in lieve calo, in particolare le minime sulle zone interne e le massime lungo la costa, Sereno, poco nuvoloso, su tutto il territorio provinciale, a Lucca e nella Piana, temperatura minima 14, massima 25 gradi, a Castelnuo e zone montane, minima 8, massima 25, a Viareggia e sul litorale, minima 15, massima 20 gradi. Grazie. Grazie a tutti.